Ale 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 l'Inter Ale 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 l'Inter Ale Simeone sei un trimone Simeone sei un trimone Fratelli Nerazzurri, amici di Facebook e Instagram Ma che bella Inter, che bella Inter, che peccato Potevamo già chiudere il discorso stasera Non hanno fatto una minchia, non l'hanno fatto E diverse occasioni noi Ma già al primo tempo due passaggi di Mkhitaryan Che di solito non sbaglia mai, azioni pericolose Chi altro? Cialanoglu, ho sbagliato un sacco di passaggi Il Tikus Turan, poi Lautaro di testa, poi il Tikus di piede Già al primo tempo non avevano fatto una mica Al secondo tempo solo Inter in campo con Karnatovic Che veramente si è mangiato l'impossibile Quello clamoroso, più che altro il secondo è clamoroso Anzi no, il secondo è il terzo Perché anche con Dunfrid non la prende per poco Quindi sembrava una serata veramente stregata Alla fine chi ci porta la vittoria? Proprio Marcone Arnautovic Con un tappino a porta vuota Che a momenti la tirano fuori Pure quella palla lì, i mortacci loro Tra loro, tra Vizzeri il cappellone malefico Tra il portiere Oblak Tra noi poco è Insomma è venuta fuori una partita così Ma tiri in porta dell'Atletico Madrid 0-0 Tiri in porta dell'Inter 5 Ok? Di cui veramente azioni clamorose parliamone Quindi Grandi ragazzi, grandi ragazzi Perché c'è stata solo l'Inter in campo Ha strameritato di vincere contro Simpatia e euforia Simeone Vai a fare in culo alla Lazio Ti prego Se torni in Italia ad allenare Vai alla Lazio Che il tuo cuore è bianco celeste L'hai detto tu L'hai detto Grande, grande veramente Grande uomo di fair play Simeone Che un quarto d'ora Si era caccato sotto A vedere Nicolò Barella Migliore in campo in assoluto Nicolò Barella stratosferico Ha chiesto lui il cambio Questo Simeone Se è un trimone Non lo so come andrà a finire il ritorno Intanto stasera sei un trimone Sei E lo hai dimostrato Tu guarda che personaggio Chiedeva i cartellini Faceva tutto lui Faceva stasera Simeone Toi in tuo culo Vaffanculo C'ho lo Simeone Intanto 1-0 Ma ci si vede al ritorno Grandi ragazzi Dovevamo peccato Due o tre pere Meritavamo di farli stasera Questi qua Sono quello E l'altra nota stonata Speriamo non sia Veramente niente di grave Il tico Sturano Lo ripeto Il nostro obiettivo Deve essere assolutamente La seconda stella I nove punti Ci sono tanti Ma abbiamo visto Come si può ribaltare tutto Queste partite Io lo spero Di andare avanti Perché sono contento Ci mancherebbe Però 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 Ripeto Mi tocco i coglioni Sul tico Sturano Perché Karnauto Ha segnato ancora Per l'amor di Dio Però Certi gol Non si possono mangiare Dobbiamo essere Veramente più cinici E più cattivi Dobbiamo Dobbiamo essere Contro squadre del genere Cioè Giocato contro un atletico Madrid Voglio dire Il ciolo Sì Con fior fior Di campioni Di giocatori Di soldi spesi Con lo stadio nuovo Che hanno Tutti questi fenomeni qua Quindi Grandi ragazzi Grandi ragazzi Adesso poi Penseremo a ritorno Adesso testa a Lecce Testa a Lecce E andare avanti così Dobbiamo fare tre punti a Lecce Importantissimi A questo punto Ancora Karnauto Grande Nino Sanchez Quando è entrato Devo essere Veramente In sette minuti Ha fatto veramente Il suo dovere Grande Nino E anche Arnauto Che ci ha portato comunque La vittoria Che se ne dica La palla La buttata dentro lui Lautaro oggi Un po' spento Soprattutto sottoporta Un po' così Il colpo di testa Era troppo bello Troppo preciso Troppo centrale Per il resto Veramente La garra La grinta Il sanguagliocchi La voglia di tenerli lì Grandi Grandi così Un grande pubblico Enesimo sold out Tifo della madonna Quindi Adelante Inter Adelante Inter Adesso Pensare a Lecce Condivisione dei video Di iscrizione al canale Sempre forza Inter E Gufi Anche stasera È andata male Ciao